Presentiamo questo corso che è post secondario, quindi dopo il conseguimento del diploma ed è il corso della moda proprio, è un corso particolare nel senso che è partita una sperimentazione in tutta Italia dal 2008 che vuole essere un po' l'alternativa a quella che definiamo la laurea breve. È un corso che si svolge in due anni, 1800 ore in tutto e riguarda per Pescara ovviamente il settore della moda. Quindi per noi è una grande opportunità che offriamo ai nostri alunni e agli alunni di tutte le scuole perché il diploma che questi ragazzi devono avere non deve essere per forza dell'istituto tecnico ma può essere di qualsiasi scuola. Quindi è una grande opportunità e spero, come stiamo già vedendo dall'iscrizione, che riesca a intercettare proprio quelle che sono le nuove tendenze dei giovani, la voglia di lavorare e che possa veramente dare qualche opportunità in più.